Musica Ciao a tutti con l'Asterisk perché si avvicina il Natale e bisogna essere tutti più inclusive oltre che buon con l'Asterisk Chris Bams ed ha pubblicato il suo ultimo video su YouTube dove fa vedere un po' l'addome che è chiaramente ultra in controllo alcuni giorni fa ho pubblicato questa foto in penombra chiaramente sembra davvero al top della condizione ho visto alcune ispezioni dei suoi video sembra abbastanza giù di Morales perché chiaramente sta mangiando poco sembra molto definito chiaramente diamo per scontata una sua vittoria anche quest'anno al Mr. Olympia Classic Physique credo che potrà vincere finché vorrà però sembra iniziare ad accusare un po' il colpo di queste prep sinceramente non penso neanche che Chris abbia bisogno di fare il bodybuilder diciamo lui potrebbe tranquillamente navigare con i suoi video su YouTube sponsorizzazioni, la sua linea di integratori si chiama Raw Nutrition che tra l'altro ha sponsorizzato Charles Griffin il mio buon amico e amato Charles Griffin quindi io penso che vincerà anche quest'anno però non sono così sicuro che lo vedremo ancora a lungo sul palco restando in famiglia Bumstead parliamo di Ian Valliere chiaramente cognato di Chris Bumstead essendo sposato con Melissa Bumstead che è la sorella di Chris ha pubblicato questo aggiornamento di gambe davvero molto molto interessanti molto nobili Ian è un ottimo bodybuilder ha davvero pochi punti deboli polpacci inesistenti, tricipiti così così però porta sempre un'ottima condizione un'ottima presenza di palco è davvero uno dei migliori per quanto riguarda il posing nel panorama attuale secondo me è davvero statuario è molto consistente l'ho detto altre volte negli ultimi anni secondo me è uno dei bodybuilder più consistenti a livello di piazzamenti, prestazioni, condizione presenza scenica davvero ottimo bodybuilder non credo che lo vedremo nella top 10 quest'anno però sarà sicuramente a ridosso con l'eventualità di poterci entrare perché non l'escludo a priori però davvero un ottimo bodybuilder non è il più dotato geneticamente però davvero un bodybuilder fantastico passa ad un altro bodybuilder che mi piace molto Samson Dauda che più lo vedo più mi ricorda un po' un Lee Haney chiaramente con le dovute proporzioni i dorsali non sono chiaramente quelli di Lee Haney però questo frontable bicep con questo accenno di vacuum con gli addominali leggerissimamente separati come ci aveva Lee Haney mi fa pensare un po' a lui e anche un po' di faccia ricorda un po' Lee Haney mi aspetto davvero tanto da Samson lui è un bodybuilder che mi aspetto di vedere nella top 10 credo che perderà molta massa rispetto a quello che abbiamo visto in questi ultimi mesi dove pareva che fosse a quasi 150 kg se non di più però io credo che lo vedremo abbastanza ridimensionato cioè 150 kg vuol dire pesare quanto Big Ram in pratica o poco meno di Big Ram io credo che lo vedremo sul palco un po' ridimensionato magari un po' più grosso rispetto all'Ardon Classic dove è arrivato quarto però un po' più piccolo spero che porti la definizione perché come ho detto altre volte vedendolo con gli altri bodybuilder che sono più definiti mi sembra un pelino indietro passando a parlare ovviamente anche oggi di Nick Walker perché non parlo d'altro ormai ha pubblicato questa Absentize a metà con la Most Muscular davvero fantastico io sto iniziando ad avere dubbi su me stesso sulla certezza che Big Ram vincerà a mani basse io sono ancora convinto che Ram mi vincerà però più vedo Nick Walker più lo vedo sicuro di sé perché solo un bodybuilder molto sicuro di sé pubblica ogni giorno aggiornamenti a nove giorni del Mistero Olimpia anzi meno di nove giorni perché è venerdì prossimo il Mistero Olimpia pubblicato quest'altro aggiornamento dicendo che è possibile cambiare la struttura fisica in pratica o la forma fisica io non credo però come detto io credo ancora che Rami vincerà però non penso che sarà una passeggiata perché sino a qualche mese fa pensavo che sarebbe stata una passeggiata una formalità ma vedendo Nick tutti questi aggiornamenti perché è l'unico che ne pubblica ogni giorno mi fa capire quanto sia un bodybuilder sicuro di sé mi piace molto come bodybuilder è molto completo davvero impressionante io non lo vedevo al secondo posto sino a poco tempo fa ma più lo vedo più mi convinco che sarà una battaglia due e che Rami non avrà vita facile sono davvero convinto di ciò penso sempre che Rami vincerà però Nick Walker ha fatto dei progressi fantastici è davvero forse un bodybuilder migliore degli ultimi due anni a livello di consistenza di piazzamenti di risultati di tutto e se vi ricordate avevo fatto un video a inizio di quest'anno che si chiama il miglior bodybuilder 2021 votato da voi ed era stato scelto Nick Walker tralasciando chiaramente Big Rami vincitore del Mr. Olympia però davvero poco da dire su su Nick Walker passando a Andrea Presti che è a Las Vegas ha pubblicato un video delle foto dove posa con Flex Wheeler chiaramente Flex Wheeler è una leggenda del bodybuilding non dovrei nemmeno dire niente su Flex Presti appare in ottima forma davvero molto definito sicuramente sta finendo i preparativi perché abbiamo visto un assaggio un antipasto nella gara in Spagna Big Man Weekend due settimane fa circa dove ha sfiorato la vittoria che poi è andata credo meritatamente a Veritwikin però ha portato già un ottimo pacchetto in quella gara e adesso siamo a poco più di una settimana dal Mr. Olympia quindi mi sembra in ottima condizione Presti io credo che il suo piazzamento sarà intorno al quindicesimo posto perché c'è davvero tanta gente quest'anno al Mr. Olympia e un quindicesimo posto è quasi una top ten per chiunque cioè non solo per Presti però credo che quella sappia più o meno la sua posizione a darsi battaglia con gli altri bodybuilder tipo Czarsky difendi a Valliere questi qua mettiamola così poi ho contattato Mauro Sassi per fare un nobilcast mi aveva detto che ci siamo risentiti però non mi ha risposto quindi do per scontato che siano abbastanza incasinati e abbiamo da fare quindi non insisto perché non voglio rompere i coglioni a a nessuno Presti righe sul culo la definizione la sta portando non ho dubbi che farà la sua porca figura l'abbiamo già visto migliorato rispetto all'anno scorso ha fatto i compiti a casa e quest'anno secondo me sarà diciamo una sorta di consacrazione in terra statunitense definitiva per per Andrea quindi fatemi sapere che ne pensate di tutti questi ragionamenti vari ed eventuali ricordatevi di essere inclusive con l'asterisk io penso che Andrea Presti abbia anche questo obiettivo in mente quando posa penso che Flex Wheeler gli abbia suggerito anche questo aspetto del bodybuilding che comunque non è una cosa da poco conto da lasciar perdere perché in un mondo in cui c'è gente gender fluid c'è gente pansessuale bisogna essere inclusive po' forza buona buona